Buonasera a tutti, benvenuti alla mia consueta rubrica quindicinnale, rubrica che parla del lavoro e del non lavoro, grazie allo spazio che mi mette a disposizione Radio Science e i temi di questa sera sono due, uno è il tema principale, quello che ha riempito le pagine di giornali per parecchi giorni in questo ultimo tempo, soprattutto nei giornali anche nazionali, ma soprattutto quelli e quelli locali, che riguarda la vicenda delle due banche, cioè la Banca Popolare di Vicenza e il Veneto Banca, in sostanza in soldoni è questo, la crisi finanziaria che ha sviluppato questa bolla di debiti e crediti inesegibili, ma qui ci vorrebbe una trasmissione solo per spiegare come funziona il denaro in questa società capitalistica, quindi la legge del valore, queste società che avevano un sacco di debiti, quindi di crediti inesegibili, non sarebbero riusciti a rientrare a questi prestiti, lo Stato si chiedeva la liquidazione, si è fatto avanti una banca, la banca intesa, che se li ha comprati con un Euro, cioè in pratica le banche, ricordiamoci, le banche sono istituti di interesse nazionale, sì, ma sono private, cioè ancora una volta vedremo nella discussione che faremo qui, nel breve accenno che faremo qui, le banche come sempre i debiti vengono collocati, vengono distribuiti alla collettività e quindi lo Stato si fa esattore da parte di questi grandi gruppi, ma non solo finanziari, ma anche economici, ricordiamoci l'Ilva e altri grandi istituti, ma ancora prima la Fiat con la Cassa Integrazione e altre cose, quindi i debiti vengono appianati dai consumatori, cioè da parte del popolo, del popolo più povero, mentre i ricchi continuano a dividersi gli utili. Ebbene, in questo Consiglio ci è fatto, allora la banca intesa si è fatta avanti e con un Euro ha comperato tutti gli sportelli della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banche e fa sì che lo Stato si divida in due le banche, la Good Bank che è quella dove ci sono effettivamente i crediti esigibili e quindi sicuri se li prende banca intesa, mentre formerà una Bad Bank, cioè una banca cosiddetta cattiva, perché questa banca cattiva si colloca tutti i debiti, tutti i crediti inesigibili di queste due banche e se li colloca lo Stato, si parla di svariati miliardi di Euro per risanare per questa Bad Bank che si parte, qualcuno dice addirittura tra i 10 e i 12 miliardi che lo Stato mette a disposizione per salvaguardare, così dicono, il sistema, il sistema che è il sistema bancario e per far sì che l'intervento del governo avvenga sono bastati soltanto 20 minuti ieri del Consiglio dei Ministri per varare questo decreto. lo sappiamo benissimo quindi che il referendum sulla riforma costituzionale che poi fra l'altro hanno vinto i no, per fortuna, veniva detto che le leggi ci vogliono parecchio tempo per essere varate, perché c'era la storia in pallo, Camera-Senato, Camera-Senato, invece abbiamo visto che quando gli interessi sono particolari di determinati gruppi bastano 20 minuti per fare un decreto legge per salvare, per far sì che Banca Intesa con un Euro, ricordo, un Euro, si colghi tutti gli sportelli di queste due banche. Ma non solo, Banca Intesa come dicevo, come tutte le banche sono sì istituti di interesse pubblico ma sono privati e la Banca Intesa quest'anno distribuisce 3 miliardi di utili ai soci, 3 miliardi e si è comprato con un Euro due banche. Vi leggo due cose che riporta il Fatto Quotidiano oggi e dice, Banca Intesa quest'anno distribuisce 3 miliardi di dividendi ai soci, lo Stato mette a disposizione subito 5 miliardi e 185 milioni, 4 miliardi 785 come anticipo di cassa che ha spiegato il Ministro servono per mantenere la capitalizzazione e il rafforzamento patrimoniale della banca, più 400 milioni di garanzia per coprire un po' di crediti dubbi da valutare al termine di due dilinge. Ma l'esborso complessivo rischia di essere molto superiore ai 5 e passa miliardi di dote, si sommano infatti 12 miliardi di garanzie per coprire rischi che il numero 1 di intesa Carlo Messina non vuole accolarsi. Le due garanzie più rilevanti riguardano, ha spiegato Padova, la retrocessione di crediti non in bonus, 6,3 miliardi e crediti attualmente in bonus ma classificati ad alto rischio che sono 4 miliardi, insomma una regalia che viene fatta alla banca intesa, ma non solo alla banca intesa, ai grossi investitori, a quelli che hanno il potere in pratica dello Stato. Quanto ci verrà a costare a tutti noi? Il Codacons calcola che il costo per famiglia saranno di 708 Euro nei confronti di chi prende poche migliaia di Euro, 708 Euro vengono regalati a ogni famiglia, viene tolto questi soldi con varie accise, tagli della spending review e peggioramento quindi di condizioni già precarie di molte persone, sappiamo che abbiamo 4 milioni di persone che vivono sopra la soglia di povertà. Non solo, ma per agevolare la ripresa di queste banche viene dato una serie di prepensionamenti, cioè un snellimento delle persone, quindi viene data la pensione a circa per un totale di 1 miliardo e 500 milioni, quindi da una parte si prolunga l'età pensionabile per le persone, dall'altra invece per agevolare ancora questi grandi patentati si dà la possibilità a qualcuno di poter andare in prepensionamento e quindi ancora una volta viene collocata la spesa. di questi esuberi, quindi per agevolare i banchi viene passato alla collettività. Personalmente penso che bisognerebbe essere molto indignati di questa situazione, perché se noi non ci facciamo sentire noi ultimi, se noi ultimi non parliamo dei nostri problemi, se noi ultimi non portiamo in piazza le nostre condizioni, ebbene la politica è come in natura, il vuoto non esiste, lo riempiono gli altri. In questi giorni abbiamo semplicemente sentito parlare di Veneto Banca, della Popolare, di Vicenza e non abbiamo sentito parlare niente dei nostri problemi, dei nostri problemi ultimi, perché a noi ci fanno la spending review, cioè vuol dire lo stringimento o l'eliminazione per quanto riguarda il welfare o la sanità o quello che si vuole, ma attenzione come siamo iper sfruttati. L'altro giorno appariva, e questa è la seconda notizia che volevo dare, quindi da una parte chi si fa sempre più ricco e dall'altra chi crea ricchezza si fa sempre più povero, ed è sempre più povero, e così sarà se noi non riusciamo a far sentire la nostra voce e dobbiamo far sentire la nostra voce. La notizia era quella dei voucher, i voucher con un referendum, la CCL voleva bloccarli e il governo ha detto i voucher non sono più validi, aspettiamo un decreto legge. Hanno fatto un decreto legge e li hanno rinseriti questi voucher all'interno, quindi li hanno riproposti, blefando chi aveva proposto un referendum e da una parte io non piango per la democrazia così stracciata che non c'è più democrazia, no, questo è il sistema che i ricchi e i potenti adoperano, hanno il potere e te lo dimostrano chiaramente, ti prendono per i fondelli, non hanno nessun problema. Quindi reintroducono da una parte quello che il referendum, la maggior parte delle persone, sappiamo che è un'altra un milione di raccolta di firme su questo referendum, è stata fatta per indire questo referendum, ma i voucher sono, e ne abbiamo parlato un tempo fa in una trasmissione, sono funzionali a questo sistema che è just in time, cioè bisogna che i lavoratori vengano utilizzati quando servono e quando non servono, vengano pure buttati via. Appariva l'altro giorno sul gazzettino del 16 giugno del 2017 che nel 2016 ci fu proprio un boom in Veneto per quanto riguarda i voucher, cioè erano passati, erano nel 2016 3 milioni e 42 mila contro 2 milioni e 440 mila nel 2015, in pratica avevamo avuto un aumento del 24,49% e vengono adoperati perché? Perché questi sono funzionali al sistema come avevo detto prima, ma nel contempo e quindi questo è un peggioramento delle condizioni, cioè il precariato soprattutto per quanto riguarda i giovani che sono sempre più precari nel mondo del lavoro, non hanno un futuro, gli vengono tolto il futuro, ma come si risolve questo problema, come pensano di abbassare ancora ulteriormente il costo del lavoro questa borghesia e lo Stato che, con i propri organi, che si fa garante di elargire o di dare questo come banca intesa, cioè i sportelli a un euro. La nuova Venezia del giorno del martedì 20 giugno riporta una notizia che fa raprividire un po' se poi andiamo a leggerla bene. Diceva esaltando un po' il giornalista, scade lunedì prossimo il bando per il servizio civile, il comune di Venezia cerca 76 volontari da impiegare in 14 progetti, il bando è aperto ai cittadini italiani, ai italiani dell'Unione Europea e ai non comunitari e regolarmente soggiornati in Italia, tra i 18 e i 29 anni compiuti. Attenzione, questo adesso è il nocciolo della notizia. La durata del servizio è di 12 mesi per 1400 ore annuo, con un trattamento economico di 433,80 Euro netti al mese, sembreranno tanti questi. Allora io ho fatto un calcolo, il calcolo semplicemente della serva, ho preso 1400 ore, l'ho diviso per 12 mesi e risulta che uno dovrebbe lavorare, questo servizio civile, 116 ore, se uno prende 433,8 diviso 116,67 ore, il risultato è, sentitemi bene, il risultato è di 3,72 euro all'ora, 3 euro e 72 centesimi l'ora. Se noi dividiamo i 1400 ore per ogni mese, se facciamo 25 giorni al mese che uno più o meno lavora, risulta che prende, 5 ore viene fuori al giorno per 25 giorni, risulta che un volontario prende 18,60 Euro per 5 ore di lavoro, che mangi un panino, che costa 6 Euro più o meno tra un panino e una birra, che si paghi il ticket che costa 1 Euro e mezzo di trasporto, 1 Euro e mezzo andare, 1 Euro e mezzo al ritorno, fanno 3 Euro, totale 9 Euro sottratti ai 18,60 Euro sono 9,60 Euro al giorno per 5 ore, questo non vi indigna ascoltatori di cosa stanno facendo? E non per essere razzisti, ma per capirci che un extracomunitario, gli immigrati che li accogliamo ci costano 35 Euro al giorno per un adulto e 45 Euro per un minorenne, prendono meno che questi ragazzi degli immigrati, non perché ci li occupino i immigrati per carità, è perché lo Stato crea queste disuguaglianze, perché poi così creerà quello spirito di metterci uno contro l'altro in modo tale che lui possa, i potenti ci dividono uno con l'altro, è chiaro che queste notizie le so io, ma le sanno anche gli altri, vengono a dire ma noi siamo trattati, ed è vero, peggio di un immigrato, ma perché i soldi e il business, il business vado, ci sono i soldi, qui ci sono i soldi della comunità europea e via dicendo. E questo è un lato, quindi voucher, il lavoro, il servizio civile in modo tale da abbassare in continuazione il costo del lavoro, ma ancora di più, l'altro giorno su Repubblica del 22-6 appare caporalato, a brindisi, braccianti, costretti a lavorare fino a 21 ore di fila, tre arresti. Queste sono le condizioni di chi effettivamente lavora, sempre impeggiorative per pagare i debiti che i potenti attraverso le banche hanno fatto. Ma ultimo e non ultimo, il gazzettino del sabato 24 giugno, un operaio cade dall'impaicatura e muore a Chioggia, un operaio che il giornalista mentre riporta la notizia non sa nemmeno di che nazionalità è, non sa nemmeno il nome, non si sa ancora chi sia, ed è morto, è caduto da un capannone e via dicendo. Queste sono le condizioni degli ultimi di chi crea ricchezza. Io vorrei terminare questa trasmissione invitandovi, visto che è considerato che questa trasmissione si può rivedere su Facebook o sulla pagina di Radio Science, di mettere un… io sono indignato di queste cose, perché se noi non ci facciamo sentire, siamo in silenzio, gli altri continueranno a fare i loro comodi, tranquillamente. Volevo terminare leggendo una cosa che ho trovato su un sito, il sito è molto interessante, si chiama www.quinterna.org e lì si trovano un sacco di documenti parecchio interessanti, dove finisce, e condivido questa cosa perché qualcuno dice cosa dobbiamo fare, come facciamo, e finisce così, dice su un rapporto, una loro tele riunioni, che fanno tele riunioni e quindi fanno un'analisi un po' delle cose che sono successe durante la settimana e dicono questo. Per i giovani è messa in discussione la possibilità di costruirsi un futuro, ma solo da questa dissoluzione, solo da morte della pratica rivendicativa interna ai meccanismi di questa società in putrefazione, può emergere un antiforma, un modo di vivere che si colleghi al futuro. L'esempio che sovente facciamo, dicono loro questi di Quinterna.org, è quello di Occupy Wall Street, un movimento che non ha avanzato rivendicazioni ed ha voltato le spalle alla democrazia e al Parlamento e riporta quello che dicono loro. Abbiamo costruito una cucina popolare per sfamare migliaia di persone, abbiamo aperto una biblioteca popolare, creato spazi più sicuri e fornito un riparo delle coperte, cure mediche e altre necessità a chi ne aveva bisogno. Mentre dei cinici ci hanno chiesto di eleggere dei leaders e fare richieste ai politici, noi eravamo occupati a creare alternative a quelle stesse istituzioni. Una rivoluzione è stata messa in moto e non può essere fermata. Ecco, un'altra cosa, un altro modo di essere, dove il valore non è la priorità, ma la priorità è un'organizzazione sociale diversa da quella che abbiamo. Io concludo questo spazio ringraziando ancora Radio Scios di dare la possibilità di dire la mia opinione, vi invito a guardare anche questo sito www.quinterna.org e ci sentiamo alla prossima trasmissione. Ciao a tutti e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.